ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video oggi voglio scoprire insieme a voi il playset barbie on the go autolavaggio come potete vedere all'interno della confezione abbiamo vari pezzi per comporre il nostro percorso una piccola macchinetta self service vari cartelli tra cui quello dello stop e quello con i prezzi per l'autolavaggio appunto l'autolavaggio corredato di spazzole rotanti una palma eccetera eccetera inclusa nella confezione come potete vedere abbiamo una mini barbie e la sua automobilina in rosa il playset è composto da 20 pezzi è adatto ad un pubblico dai quattro anni in su ed è un prodotto by mattel quindi a questo punto ragazze vado ad aprire la scatola monto tutto l'autolavaggio ci ritroviamo qui tra pochissimo con il nostro autolavaggio montato ragazze devo dire che veramente molto molto carino quindi lei è la barbie che troviamo all'interno di questo playset e devo dire che veramente fantastica come tutte le altre mini barbie di questa serie ha le braccia mobili quindi può muoverle sia avanti che all'indietro ha due snodi alle gambe quindi uno all'anca e uno al ginocchio e questo le permette di potersi sedere sia sulla macchinina che sopra la panchina e devo dire che il look di questa barbie è davvero carino come potete vedere ha i capelli castani raccolti in una coda molto alta agli occhi verdi con delle sfumature dorate il rossettino è molto tenue e il suo outfit devo dire che veramente molto molto carino quindi indossa una camicetta smanicata di un bellissimo verde menta pastello e come potete vedere sopra la maglietta c'è stampato il colletto in nero e anche i bottoncini qui dietro come potete vedere c'è scritto barbie in fucsia ed indossa un paio di pantaloncini corti di un bellissimo verde petrolio scuro le scarpette sono queste sono molto carine quindi sono scarpe da tennis bianche con i lacci e quindi ragazze fatemi sapere cosa pensate di questa meravigliosa mini barbie con la testolina sballonzolante come vi dicevo prima insieme alla barbie viene anche la sua macchinina quindi ecco qui la sua meravigliosa macchina come potete vedere è in rosa qui sulle portiere ci sono delle fantasie floreali molto molto carine qui sulla targa c'è scritto barbie e i fanali giustamente sono a forma di cuore il parabrezza è in azzurrino trasparente il sedile è di un bellissimo giallo pallido e la cappottina è in viola e come potete vedere qui sopra c'è una stampa del cuoricino di barbie per il resto ragazze guardate i cerchioni quanto sono belli quindi sono in argento con tutti dei cuoricini al centro c'è un altro cuore con la b di barbie e questo è il retro qui c'è un'altra targhetta e se la andiamo a premere la nostra macchinina entra in funzione per quanto riguarda le batterie serve una sola mini stilo quindi questo è il suo vano e che dire ragazze la trovo veramente fatta molto molto bene curata in ogni particolare quindi a questo punto non ci rimane altro che preparare la nostra barbie che tra le altre cose viene con questo bellissimo paio di occhiali arancioni trasparenti e farle fare il suo bel giro nell'autolavaggio facciamo partire la nostra macchinina ed eccola qui lì come potete vedere la macchinina si ferma perché c'è una levetta da aprire quindi possiamo farla passare ed ecco la ferma all'autolavaggio come potete vedere la macchinina sballonzola e qui ci sono delle rotelline per far girare i rulli rotanti è veramente fantastica quindi la macchinina è bella e pulita quindi possiamo spostare la levetta e far passare barbie eccola qui che arriva in gran velocità che dire ragazze io la trovo veramente super fantastica sia la pista che la barbie con la sua macchinina e come potete vedere logicamente la macchinina può funzionare anche al di fuori della pista ragazzi ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate di questo playset autolavaggio questi playset sono veramente super accessoriati come avete potuto vedere le barbie sono veramente carine e ultra snodate quindi qui giù nell'info box vi lascerò il link diretto agli altri video dedicati a questa nuova linea barbie on the go ricordatevi quindi di farmi sapere qual è il vostro playset preferito e la vostra barbie preferita io a questo punto penso che la mia preferita sia proprio lei vi ricordo che questa nuova linea barbie on the go è un prodotto by mattel e potete trovare tutti questi fantastici playset nei migliori negozi di giocattoli negli ipermercati più forniti e in tutti i toy center quindi il video termina qui ragazze spero che vi sia piaciuto io come al solito vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima ciao